Musica Ben sintonizzati su CTS Canale 90 senza ulteriori indugi vi andiamo a vedere insieme tutta la carellata di servizi di quest'oggi Città sempre più vuote per l'arrivo delle ferie estive e torna l'allarme dei furti in appartamento e così mentre le famiglie partono per le vacanze lasciando le case incustodite i ladri entrano in azione è accaduto lo scorso weekend a Palermo dove in appena 24 ore sono stati messi a punto 4 furti ai danni di case e negozi nella zona compresa tra via Imperatore Federico, via Le Campania e via Val di Mazzara il primo essere colpito è stato un appartamento al primo piano di via dell'Artigliere da cui sono stati rubati gioielli e 500 euro in contanti stessa scena e stesso bottino in una casa in via Le Campania furti anche in due attività commerciali a essere presa di mira è stata un'edicola in via Andrea Cirincione dove i malviventi sono riusciti a portare via un magro bottino di appena 20 euro scardinate infine una saracinesca e una porta a vetri in una parasanitaria di via Val di Mazzara dove i ladri hanno rubato solo il registratore di cassa al momento non ci sono testimoni ma alcune telecamere vicine potrebbero aiutare gli agenti impegnati nelle indagini Macelleria sociale, iscrizione farraginosa, l'ennesima presa in giro sono solo alcuni dei commenti che infiammano il web nel secondo click day del piano Giovani Sicilia troppi accessi simultanei e va in tilta ancora una volta il portale della regione che consente ad aziende e giovani di incrociare domande e offerta per accaparrarsi 800 tirocini retribuiti da 500 euro per 6 mesi la seconda finestra del piano Giovani prevista per il 1 agosto e spostata al 5 ha ripresentato le stesse problematiche dello scorso 14 luglio molte ore prima delle 10 del mattino, orario di apertura per candidarsi così da impedire a molti giovani di accedere al sito 95.000 utenti connessi, secondo quanto diffuso nella nota di Palazzo d'Orlean che attraverso Alessandro Balsamo, segretario particolare dell'assessore regionale della formazione nell'Iscilabra, fa sapere che si è trattato di un problema tecnico e che saranno avviate delle verifiche tra l'ipotesi al vaio anche quella di aprire un'ulteriore finestra entro la prossima settimana per dare la possibilità a quanti hanno avuto problemi di connessione di poter accedere al sistema fatto sta che già alle 11.14 erano stati formalizzati tutti gli 800 incroci previsti infrangendo sogni, aspettativi e di ben oltre 90.000 giovani la cui rabbia e delusione è esplosa sul web con migliaia di commenti c'è chi parla di anomalie minacciando ricorsi o azioni legali per ottenere risarcimento per danno psicologico e biologico chi addirittura invoca l'intervento della Procura della Repubblica o propone una mega manifestazione con tanto di sequestro dell'assessorato la domanda che ricorre è quasi sempre però la stessa come sia stato possibile con il sito in tilt come confermato dall'assessorato che alcuni utenti siano riusciti ad accedere al sito ed effettuare tutte le fasi di completamento per assicurarsi il tirocinio una campana che suona anche tra gli scranni dell'Ars l'onorevole Vincenzo Figuccia punta il dito contro il progetto finanziato dalla Regione tacciandolo come l'ennesima presa in giro per i giovani siciliani è volato a Roma il segretario del PD in Sicilia Fausto Raciti per un confronto con il partito e le sue diverse correnti missione ritornare con una rosa di nomi da proporre al Presidente della Regione Rosario Crocetta per un rimpasto in giunta bisognerà trovare la più ampia condivisione possibile in un partito frammentato e in un clima politico difficile per l'intera maggioranza di governo l'orientamento dovrebbe essere quello di un ingresso in giunta di assessori politici e non più di tecnici si potrebbe poi accontentare per così dire la corrente cuperliana penalizzata nella formazione del crocetta bis ma non è da escludersi un cambio radicale nella rappresentanza democratica entro la settimana dovrebbe concludersi questa prima concertazione così come auspicato dal segretario Raciti poi dunque la fase più cruciale il confronto con il governatore siciliano Regione Siciliana strigliata ai Comuni sull'abusivismo edilizio in merito appunto a questo grave problema che affligge la Sicilia il dirigente generale del Dipartimento Urbanistica Maurizio Pirillo ha emanato una circolare per allertare gli uffici tecnici e le amministrazioni comunali dato l'ordine di demolire precisa il dirigente della circolare il Comune si deve accertare che il provvedimento di demolizione vada a buon fine nel caso in cui l'ordinanza di demolizione non venga portata a termine è previsto che sia il Comune ad agire demolendo a proprie spese recuperando poi costi sostenuti o acquisendo l'immobile al patrimonio indisponibile dell'ente secondo i dati raccolti dallo stesso Dipartimento di Urbanistica solo un procedimento di demolizione su 15 si conclude Nascerà nella sede dell'ex istituto Roosevelt di Palermo alla Daura Mondello il polo istituzionale scientifico del mare mediterraneo l'assessorato regionale al territorio e ambiente proprietario della struttura ha firmato ieri un protocollo di intesa con l'ARPA Sicilia l'Enea lo IACM il CNR l'ISPRA e la soprintendenza del mare un accordo che è la dimostrazione di come tutti insieme si possa mirare obiettivi comuni raggiungendoli come ha spiegato l'assessore Maria Rita Sgarlata valorizzare e mettere a reddito il patrimonio immobiliare dell'assessorato attualmente sottoutilizzato per l'assessore è questa una delle priorità del suo mandato l'ARPA quale ente strumentale della regione sarà il soggetto coordinatore della rete parteneriale che opererà per l'intero periodo di vigenza della programmazione comunitaria 2014-2020 al termine del quale scadrà la durata del protocollo intanto è stato convocato per il prossimo 30 agosto un tavolo tecnico che si terrà nella sede dell'assessorato ritorna protagonista l'Oscar dello sport l'evento organizzato dal comune di Mazzara del Vallo in collaborazione con la Vidiaset agenzia di stampa televisiva si svolgerà nella fantastica cornice architettonica di Piazza della Repubblica a Mazzara del Vallo il 25 agosto alle ore 21 e prevede la partecipazione di personaggi dello sport che hanno dato lustro ai colori italiani tra gli Oscar assegnati quest'anno dalla commissione del premio spiccano il presidente del CONI Giovanni Malagò quale dirigente sportivo dell'anno Vincenzo Nibali quale migliore atleta Andrea Lucchetta alla carriera e Veronica Floreno migliore atleta paralimpica dell'anno il premio quale miglior giornalista sportivo dell'anno andrà ad Alessandro Antinelli di Rai Sport altre candidature saranno comunicate nei prossimi giorni dalla commissione che assegna i premi composta dal sindaco di Mazzara del Vallo Nicola Cristaldi dal presidente della commissione turismo sport e spettacolo Pietro Ingargiola dal direttore artistico dell'Oscar dello sport Roberto Marco Oddo e dal responsabile dell'ufficio stampa del comune Ettore Bruno la cerimonia sarà arricchita dall'esibizione di artisti che con danza musica e canti tradizionali dei loro paesi rappresenteranno le diverse nazioni del Mediterraneo gli artisti saranno coordinati dalla direzione musicale della Cola Band indirizzo artistico scelto per sottolineare e certificare Mazzara del Vallo quale capitale multietnica dello sport Obiettivo difensore Franco Ceravolo va alla ricerca di un centrale da consegnare a Beppe Iachini un giocatore d'esperienza i nomi caldi sono sempre quelli di Campagnaro e Silvestre e dell'Inter mentre per il primo la pista sembra molto complicata più accessibile invece sembra la strada che possa portare anzi riportare Mattiaz Silvestre in rosa nero nelle ultime ore tra i due club si è cominciato a parlare di cifre per l'operazione Silvestre infatti il Palermo pagherebbe 2 milioni in Erasuri con un prolungamento del contratto del giocatore per spalmare l'ingaggio dello stesso su più stagioni sono attesi sviluppi nelle prossime ore per Campagnaro sembra quasi un'operazione impossibile anche perché l'ex Napoli e Inter non vuole ridursi l'ingaggio e non vuole giocare in una squadra che come obiettivo abbia la salvezza ancora un no del Catania per l'avanza a Spolle Pulvirenti non vuole cedere il difensore argentino intanto Ceravolo sta anche pensando a far rescindere alcuni giocatori dall'ingaggio pesante tra questi c'è Nelson e poi Bacinovic continua la preparazione del Catania in vista del prossimo campionato di Serie B buono il tester dell'amichevole contro la squadra austiaca degli Emirati Arabi il Catania è vittorioso con pieno merito sotto la pioggia all'Eugang 3 a 0 all'Al Ain compagine degli Emirati Arabi attesa dai quarti di finale della Champions League Asiatica un successo prestigioso è importante per la squadra di Mister Pellegrino che evidenzia significativi progressi sul piano della compattezza dell'identità tattica e delle capacità di esprimere quelle qualità riconosciute da più parti il Catania continuerà la preparazione nei prossimi giorni in vista naturalmente del prossimo impegno del campionato di Serie B diciamo che tutto procede bene i nuovi compagni i nuovi ragazzi sono subito ambientati bene con i vecchi quindi diciamo che c'è un mix che è molto importante giovani e vecchi che può andare d'accordo benissimo certo è il primo anno vedere tutte queste facce nuove per me però sono dei ragazzi veramente in gamba che è tutta gente umile che sta facendo molti sacrifici per raggiungere un obiettivo diciamo anche loro personale penso che la scelta di farlo così lungo sia stata proprio per questo visto che ci sono stati molti cambiamenti rispetto allo scorso anno anche per fare integrare più presto possibile tutti questi ragazzi comunque noi stiamo dando il massimo noi più anziani a farli sentire subito a loro agio perché comunque anche loro sono disponibili a tutto quindi diciamo che è un gruppo veramente importante secondo me quest'anno ci possiamo togliere tante soddisfazioni perché comunque come ho detto prima ci sono dei giovani importanti che hanno voglia di mettersi in mostra e costruirsi una carriera importante comunque abbiamo gente di 20 anni che come prima esperienza in serie B penso che cercherà di dare il massimo e noi più anziani che faremo di tutto per farli emergere ancora di più diciamo per aiutare e penso che quest'anno ci possiamo togliere molte soddisfazioni che ci sono che che ci sono Grazie a tutti